eccola lì benissimo o ci siamo innanzitutto ciao davide come stai la luca tutto bene grazie nelle ferie tutto a posto ho fatto un po di vacanza o sempre in giro per mercatini no no in giro per mercatini giro per mercatini allora innanzitutto ti ringrazio perché trovo estremamente interessante la possibilità di parlare con qualcuno che di professione perché tu ora da un po di tempo lo fai assolutamente di lavoro si occupa di appunto fare mercatini e non soltanto mercatini in senso assoluto ma mercatini in maniera specifica per quanto riguarda gli orologi vintage perché il tuo la tua attività si chiama ore vintage giusto benissimo ottimo per cui bene allora innanzitutto un po di doverosa pubblicità che mercatini fai soli inviate il sabato perché ti vengo sempre a trovare allora come mercatini principali o l'inviata al sabato e al mercoledì o pavia mercoledì mattina la domenica non fai nulla o li cambi la domenica faccio poco sinceramente facevo como fino all'anno scorso adesso l'hanno un attimino fermato ma appena riapriranno penso che farò quello più che altro ho capito avevo una mezza intenzione di iniziare a fare qualche mercatino fuori regione però mi sto organizzando magari fare una domenica al mese dedicarmi a un mercatino fuori regione perché ci sono tanti clienti che mi che mi chiedono se riesco andare a provare col banco nel loro fuori dalla lombardia ma purtroppo non è così semplice come come si è comunque guarda in piemonte ma lo saprai sicuramente c'è casale monferrato che un bel mercatino c'è come si chiama quell'altro borgodale c'è un bellissimo mercatino se vuoi fare una cosa più tranquilla un pochettino più vicina c'è se non ricordo male la terza o la quarta domenica del mese borgomanero che non è male cioè no e poi è bello spostarmi ad esempio liguria veneto trentino proprio andare abbastanza una volta una domenica in piemonte una domenica al mese una domenica che ne so in lombardia più profonda una domenica magari liguria certo giusto per accontentare anche quei clienti che comunque vorrebbero vedere dal vivo gli orologi ma è tanti lamentano anche che comunque nei loro paesi al di fuori della lombardia e comunque vabbè pieno piemonte è già bello come per quanto riguarda i mercatini ma gli altri le altre regioni sono veramente un po scarsi di mercatini quindi anche clienti si guarda ti dico io cos'è stato il mese scorso ero al mercato al mercatino di arezzo che è il più importante mercato dell'antiquariato d'italia ok eravamo sotto le feste un po prima di natale per cui l'inversione ridotta però è il più importante rimane il più importante mercatino di antiquariato d'italia e orologi niente o quasi sì sì ma lo dicono in tanti anche perché sono veramente che c'è da trovare in altre regioni eh sì perché noi per noi appassionati quello che fa la differenza è il numero dei banchi degli orologi cioè voglio dire l'inbiata è che se diciamocelo tra di noi è un mercatino assolutamente sfigato ed è una via di mezzo tra le pulci proprio quelle da grattarsi e qualcosa di più eh perché ci sono anche i banchi veramente quelle però con due banchi di orologio tu e dario insomma fa fa la differenza perché tra l'altro due dei banchi ben riforniti eccetera eccetera bene allora l'abbiamo detto quindi andate a trovare davide tra l'altro davide ha un suo canale che si chiama ovviamente anche il canale giusto dove si presenta gli orologi ne fa vedere per cui se qualcuno è interessato lì trova tutti i riferimenti ti chiama ti rompe le scatole ti viene a trovare oppure ti chiede quando è che sei dalle mie parti eccetera noi ne avevamo fatto uno molto carino anche a piace in provincia di piacenza casal maggiore può darsi se non ricordo male è molto molto bellino molto bellino vale la pena anche quello lì abbiamo fatto penso che se non ho fatto il video io l'ho fatto cesare per cui casal maggiore è un bel mercatino va bene detto ciò come si diventa con cioè cosa succede tra l'altro tu non è che sei partito perché la famiglia aveva il banco e dici prosegue una tradizione di famiglia e non sei neanche partito da dire lo facevo da studente e poi mi ci sono trovate in mezzo e va davanti come si arriva a una certa età tu sei giovane ma comunque non più un bimbo hai famiglia i bimbi ce li hai già di prodotti già prodotti ok la bimba se non ricordo male giusto due due bimbe due bimbe quindi vedete io ne ho 36 va bene perfetto e a maggior ragione come come ti è venuta porco cane adesso faccio il mercatino del degli orologi la semplicemente la mia attività nasce come come compravendita di orologi vintage e facevo 99 per cento i miei clienti erano online quindi al negozio ebay su vari siti su varie piattaforme però ad un certo punto mi sono accorto che mi mancava quelle quel rapporto col cliente quella chiacchiera che si fa tra tra persone che si conoscono un po quel rapporto che vedevo quando ero piccolo che aveva mio nonno quando mi portava a mercatino con lui sempre per cercare orologi questo per cui diciamo non è attività di famiglia ma è mania di famiglia assolutamente io sono il primo che fa il primo della mia famiglia dico bene già dal nonno insomma il nonno era appassionato ma solo il nonno solo il nonno poi si è fermata la tradizione adesso la sto continuando io ma lui era semplicemente un appassionato ok gli occhi azzurri si salta una generazione è sempre così per cui tu dici va bene avevi questa cosa a certo punto hai detto voglio andare a trovare la gente però per trovare la gente si può anche soltanto andare a visitare i mercatini e guarda ti dico la verità il mio sogno nel cassetto devo dire che l'ho già realizzato però come insaziabile come persona insaziabile quando realizzi un sogno ne hai subito un altro dietro il mio sogno nel cassetto vero e proprio sarebbe aprire un bel negozio di orologi però non è così facile le spese sono tante e piuttosto di rimanere nel web e comunque non avere appunto rapporto con le persone se tu mi dici le vai a trovare ma vai a trovare sempre delle persone che fanno quello che vorresti fare tu quindi io vorrei aprire un negozio non è così semplice per adesso tra virgolette mi sto accontentando di avere un banco in alcune piere ecco tra non avere niente avere un negozio fisico è comunque è comunque un discorso interessante anche perché visto che insomma il banco è allestito in maniera professionale nel senso che non è il banchetto col tavolino insomma è il tuo bel gazebo tutte le tue belle vetrinette insomma è una cosa è una cosa messa giù bene però io sono qui per romperti le scatole altrimenti questa intervista non la facevamo sarà tutto bello e tutto fantastico insomma c'è il lato oscuro del mercatino c'è una grandissima concedetemi il termine una grandissima rottura di palla ecco non so se si vede che poi lo può essere anche utilizzata per aprire la cassa dell'orologio c'è significa alzarsi alla mattina all'alba significa far le code significa prendere l'acqua quando piove e il freddo quando fa freddo il caldo quando fa caldo cioè lo dico io che ti vengo a trovare magari in quel di limbiate l'ultima volta che sono avvenuto c'era un freddo assassino sono stato lì in mezz'ora pensavo di morire mi sono chiuso nel bar cappuccino a brioche sono scappato te te lo sei beccato dalle a che ora a che ora siete al mercatino l'inbiato adesso ormai alle 6 più o meno alle 6 6 e mezza sono lì quando ho iniziato non avendo il posto fisso perché in alcuni mercatini bisogna fare la tessera quindi bisogna avere bisogna fare delle presenze per ottenere questa famosa tessera le presenze le fai facendo la spunta e primi mesi devo dire primi sei mesi quindi da luglio fino a dicembre perché poi a gennaio preso la tessera andavo là a mezzanotte andavo là a mezzanotte ed ero sempre il primo il secondo teni conto che entravano i primi tre primi quattro massimo cinque della fila quindi andavo là a mezzanotte prendevo numerino e poi si dormiva in macchina si dormiva in macchina e alle 6 apriva il mercatino allora si entrava c'è bella passione per fare dei sacrifici di questo tipo cioè mi dicono che ci sono dei lavori tipo non so fare il maestro di golf l'assaggiatore di champagne il recensore di sigari come piace a me che sono dei mestieri più agevoli insomma ma secondo me è una delle cose più belle in assoluto del mercatino ma non solo del mercatino perché io ho la fortuna di fare appunto di non farlo come hobbista ma farlo come professione quindi io tutte le mattine mi alzo e non so che orologio troverò quindi anche al mercatino tu vela al mercatino è possibile che ultimamente è successo sabato scorso mi sembra arrivata questa persona avevo un eberhard stupendo l'ho visto l'ho visto non veramente veramente notevole sì sì ho visto poi ho visto ultimamente che avevi trovato anche un alfa romeo giusto se non se non ricordo male romeo sì 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 anche un eberhard alfa romeo alfa romeo quello là però arriva da un cliente web quindi però sì 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 fantastico questa cosa qui è notevolissima e va bene allora io direi e lo dico a tutti tanto non ci abbiamo segreti e blocchiamo un attimo vediamo se quello che avevamo registrato si è registrato perché altrimenti al di là del piacere di aver fatto una chiacchierata fino adesso ai fini del video noi abbiamo tenuto un beato come si può dire un beato sta registrando la chiamata quindi il problema che non sempre lo salva hai capito perché i computer eccetera tutti dicono sono delle cose precise non lo sono ti dico e lo dico a tutti preparati perché adesso nella seconda parte chiamiamola così e magari ne approfitto per mettere in mezzo il tuo logo tra la prima così abbiamo fatto anche l'intervallo sembriamo gente seria tu lo sai io un po meno e ti faccio le domande quelle difficili cioè come ti rubo un po di segreti o comunque lanciamo un po di segreti tanto c'è di bello che io c'ho 10.500 follower ma spesso i miei video riguardano 12 13 amici mia mamma mia nonna eccetera per cui rimane qui tra di noi però ti chiedo come si fa a trovarli non soltanto come si fa vendere quindi insomma preparati una versione che sia diffondibile mi fermo un attimo la registrazione benissimo e qui viene la parte la parte difficile perché tutti quelli che guardano dicono vabbè ma io poi come faccio a diventare in gamba e come fate soprattutto voi che fate questo lavoro a trovare quei pezzi lì insomma io cara ragazza c'ho due o tre spacciatori ufficiali uno di questi sei tu e allora voi fate il lavoro sporco per me però ecco tutti chiedono cioè immagino prima domanda è più difficile vendere o è più difficile comprare è più difficile comprare immaginavo più difficile comprare perché in base a quanto a quanto quando compri un orologio devi guardare la qualità devi guardare la rarità dell'orologio e in base a quello devi fare il prezzo e più compri alto e più dopo devi uscire alto e devi uscire alto quindi alla fine la cosa più difficile devi veramente comprare a buon prezzo certo certo e voglio dire tu immagino hai contatti con sia altri mercatini dove magari per cui c'è anche quella parte lì non ti basta sinceramente con mercatini compro da privati tramite mercatini e compro poco da persone che fanno il mio stesso lavoro semplicemente perché ovviamente loro non possono fare un prezzo in modo che poi io ho il margine per rivendere non è così scontata come cosa non è semplice come io è difficile che vendo agli altri commercianti altri commercianti difficili che vengano a me io ho due canali importanti per trovare orologi i privati e i negozi il privato immagino come mi dicevi prima è quello che vede che c'è il sa che c'è il banco viene a trovarti dice guarda non sopporto più lo voglio vendere tutti centomila motivi voglio vendere questo orologio fammi una proposta giusto così sì 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 o così io io spendo anche parecchi soldi in volantinaggio ad esempio ma per cui inteso cioè nella cassetta della posta di sì 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 e qualcuno un po di riscontro c'è qualcuno mi chiama invece ho visto il volantino avrei degli orologi da vendere e così poi si fa il giro comunque dopo è comunque un lavoro di passaparola certo certo immagino e poi mi dicevi negozi anche perché immagino un po' quelli che chiudono e ahimè ce n'è sempre di più un po' quelli che magari dicono non è il mio mestiere perché io vendo il e magari c'ho i fondi di magazzino cioè il mitico nos che ci aveva qui mio nonno anche perché c'è stato un periodo in cui fino a pochi anni fa del vintage non gliene fregava niente a nessuno ed era da tenerla in fondo mentre adesso continuano a crescere i prezzi per cui insomma notato nel mio banco se ne vedono non dico tanti però comunque c'è sempre una buona parte di nos che non sono di marchi così importanti non sono però ho sempre delle robettine carine nos proprio perché mi chiamano o tanti tanti negozi a cui faccio il filo quindi i negozi piano piano tirano fuori l'orologino ti chiamano vai la le vedi tratti sono quasi tutti nostre perché è difficile trovare i negozi che trattano l'usato se lo vendono per il cavoli loro alla fine perché ovviamente trattando il vintage trattano l'usato quindi ci sono tanti negozi che magari a un certo punto della loro attività hanno deciso di fare la svolta non rompersi più le balle con dei marchi che potevano che facevano movimenti meccanici e decidono a un certo punto di mettere in piedi solo un orologeria a base di quarsi come può essere braille o può essere marche e quindi rimane tutto quello che c'è dietro allora qui facciamo un'affermazione importante differentemente da quello che pensiamo tutti noi il mercato degli orologi è fatto dal quarzo è fatto dal dall'orologino da centro commerciale su quelli si fanno i numeri giusto per cui chi ha un'attività un negozio magari davvero dentro al centro commerciale in città eccetera se vuole andare incontro alle richieste delle persone è molto bello che faccia vedere le berard del 1950 però alla fine per uno di quelli vende venti orologini tra virgolette eccetera tutte quelle marco un po se io non conosco neanche io difatti cercavo di dire una marca non mi è venuta in mente io abito a novara novara c'è un centro commerciale in questo centro commerciale ci sono tre negozi che vendono il gioiellino la catenina queste cose qui e tutti hanno praticamente le stesse identiche marche di orologi tutti quanti e di questi il 95 per cento tra queste marche sono orologi a quarzo qualcuno adesso ci sta mettendo proprio perché comunque il mercato sta sta aumentando qualcuno ci sta mettendo qualcosa di di meccanico però il grosso quello altra considerazione che volevo fare con te è hai citato il discorso marche più o meno valide ma quanto è poi in termini di vendita quanto è significativo cioè uno dice mi piacerebbe arrivare ad avere il banco con i rolex gli eau de mar pighi i patek philippe o sono se mi concedete il termine tecnico sono pugnette e alla fine vedi degli orologi più da combattimento che con quelli si fa si fa il lavoro allora io personalmente sono sono predisposto a tutto nel senso l'orologio da 50 euro l'orologio da 2000 euro tratto anche orologi più importanti non li porto al mercatino ma li tratto a me piace la rarità mi piace avere di me basta avere degli orologi che non si vedono in giro io già sono contentissimo poi può essere un orologino da 50 euro anche mi è capitato tempo fa che avevo ritirato dei braille mi sembra dei braille fondo di magazzino tra cui con la cassa esagonale praticamente uguale al rola royal hoc però braille c'è un orologio da 150 euro ma già come ottima eppure non l'avevo mai visto ed ero contentissimo di averlo preso e l'ho venduto appena l'ho portato sabato è sparito subito ad esempio perché fa il discorso giusto che devono fare gli appassionati secondo me e quelli che davvero ripeto sono appassionati di orologi c'è tanto snobismo io ho notato tanti che dicono non comprate gli orologini tenete via i soldi ho sentito fare un discorso vabbè sul sul tubo qua da qualcuno che dice ma non state a comprarvi tutti i mesi l'orologino da 100 euro a parte il fatto che io non è che tutti i mesi compro l'orologino da 100 euro insomma e penso tanti non è che tutti tutti i mesi o tutte le settimane che vengono ad esempio le inviate mettono lì 100 150 euro e tenete lì perché poi alla fine se quando gli avete avanzati vi comprate i rolex sì però facciamo un conto a 100 euro al mese sono 1200 euro all'anno è sì vuol dire che con 6 7 8 anni ti compri un rolex base usato cioè non lo so il divertimento nel frattempo dove andato a finire perché secondo me come giustamente dicevi tu io c'ho degli orologi da pochissimo che però cioè sono ti danno tantissima soddisfazione perché magari ce l'hai solo te perché magari è comunque raro è particolare negli anni passati facevano gli svegliarini saltarelli facevano degli orologi luca hai visto lo svegliarino che ho avuto che ho venduto anche la velocemente il lanco phone sì l'ho fatto in tempo a vederlo io non l'avevo mai visto quando l'ho visto ma non perché io personalmente poi posso sbagliare sicuramente a livello commerciale non è il massimo ma io compro solo quello che mi piace innanzitutto quindi se ho un orologio se mi propongono un orologio che già non mi piace non chiedo neanche quanto vogliono perché non lo so è più forte di me non riesco poi fai fatica anche a vendolo fai fatica a proporlo fai fatica a dire secondo me quella giornata che non avevo trovato nulla perché un come un magari voi vedete il banco pieno d'orologi diceva beh beh bel lavoro vai in giro compri orologi li porta qua ma per comprare gli orologi e trovare bisogna alzarsi alle sei di mattina farsi magari due ore di macchina passare tutto il giorno in cerca di orologi nelle gioiellerie tornare a casa la sera che magari non è acquistato nulla e magari speso 150 euro tra benzina casello mangiare non è così sempre rose fiori quella era una di quelle giornate a un certo punto trovo questa vetrina tutti i orologi di marca e fuori in vetrina quindi quando mettono l'ongine fuori in vetrina secondo me già chiedono troppo perché ormai ho capito certe dinamiche e poi in mezzo a tutti questi orologi c'era questo lanco che per me era qualcosa di micidio non l'ho mai visto sinceramente uno sveglierino della lanco così infatti sono entrato ovviamente gli altri prezzi omega allungine le ha sparati alle stelle che magari io vendesse a quel prezzo invece come ben pensavo dell'anco mi ha chiesto una cifra onesta infatti mi ha dato l'opportunità di comprarlo averlo provarlo qualche giorno e poi darlo un ottimo collezionista che i bazzi calimbiati ottimo quindi è una soddisfazione veramente forse perché sono anche appassionato oltre che soprattutto appassionato quindi mi riempie proprio di gioia al cuore quando succedono queste cose proprio proprio belle certo sono assolutamente d'accordo quello che fa veramente la differenza e la passione anche perché insomma l'orologio ormai non servono neanche più per guardare il tempo ce lo diciamo da un po di tempo tanto per usare il termine tempo che cioè lo guardi sul cellulare che sicuramente più preciso insomma l'orologio ti deve dare un po di emozione si deve dare la particolarità deve anche avere la possibilità con gli altri che ci capiscono come te di trovarsi e questa è la cosa per cui lo dico dall'altra parte perché andiamo ai mercatini ci ho fatto un paio di video con questo titolo tra l'altro perché andiamo ai mercatini per trovare qualcosa di particolare per provare qualcosa di esperienza per vedere delle altre persone con cui dire guarda io oggi c'ho questo a bello dove l'hai trovato come infatto ma che cos'è cioè questa la parte più bella che mi fa molto piacere era la cosa che hai detto tu all'inizio cioè tutto molto bello il negozio su internet anche molto comodo poi però non vedi le persone poi però non condividi la passione insomma devo dire che va bene avere entrambi io vendo tantissimo all'estero e soprattutto ho la fortuna che gli orologi perché purtroppo non dico che seguiamo tutti la stessa lo stesso filone la stessa corrente però bene o male è difficile trovare degli amanti di alcuni tipi di orologi e per fortuna io vendendo tanto all'estero mi hanno dei gusti completamente diversi e compro oggi che qua sono invendibili quindi avere tutte e due è una grande mano verissimo verissimo e qui bisogna fare una scelta secondo me cioè compra l'orologio perché mi piace e allora compri quello che c'hai voglia non quello che ti dicono che devi comprare perché sei figo anche qui tanto per non fare polemica diciamo anche questa ma poi se uno invece incomincia ad avere un discorso un pochettino più di collezione c'è modo di fare delle collezioni andandosi a specializzare in segmenti specifici e a questo punto che ne so una collezione meravigliosa può essere quella diciamo prima gli svegliarini piuttosto che gli orologi che ne so dei militari piuttosto che i subacquei piuttosto che gli orologi che sono andati nello spazio esatto a differenza di quelli che sono andati nell'ospizio che sono molti di più e saranno sempre di più anche perché ahimè qui c'è un altro problema è difficile portare i giovani all'orologeria meccanica immagino che tra i tuoi clienti ci sia un po un po di ospizio cioè ci sono quelli della mia età 40 anni in su certamente molto più semplice trovare un collezionista e purtroppo ce n'è veramente pochi giovani ho avuto la fortuna di avere un po di clienti anche di 20 anni ma sono veramente pochi comunque mi piace bello vedere i giovani che si approcciano i giovani spero che essendo appunto giovani hanno molta più possibilità di informarsi tramite web che non si facciano fregare perché poi là è un attimo fargli passare la voglia il vintage spaventa per quello gli orologi vintage spaventano soprattutto per quello perché non si sa mai se si prende una sola o no è vero però qui ritorniamo un altro discorso che era quello che facevi prima cioè secondo me il grande merito dell'orologino da 100-150 euro che dicevi prima ha la possibilità di far avvicinare cioè non è che tu la prima volta che hai bevuto vino a mezzo che uno sia appassionato di vino ti sei bevuto il sassicaia o il brunello di Montalcino anche perché se l'hai fatto l'hai concettualmente buttato via non dico che si parte col tavernello ma quasi quindi tutte le varie polemiche sulla roba di così di basso livello io direi non soltanto sono sterili ma quelle sono le cose che possono avvicinare i giovani e anche i meno giovani a una cosa di questo tipo anche perché dimmi dimmi no dicevo c'è un'altra componente nel vintage io sono appassionato ahimè non ne ho più perché era complicato ne ho tenuto una sola ma io sono sempre stato appassionato di moto d'epoca una delle cose che vedevo a un amico che fa il commerciante e un amico che fa il restauratore una cosa che sentivo spessissimo nella motivazione della moto d'epoca era ce l'avevo quando avevo vent'anni era la moto di mio papà era la moto di mio nonno per cui voglio dire anche quello è una cosa che conta e tante volte mio papà o mio nonno se non era di chissà quale famiglia e allora in quel caso probabilmente l'orologio l'omega d'oro è rimasto in famiglia è un orologino potenzialmente da poco e c'è della roba carinissima io ormai più di un anno fa feci un video sulle bolle di certi orologi concettualmente sfigati ai tempi c'è la bolla di Mortima a parte il fatto che nel frattempo hai visto anche tu i Mortima sono sparati i prezzi non so cosa è successo però insomma i Mortima erano degli orologi da divertimento erano un po' gli swatch dell'epoca se vuoi l'orologio me lo compro ne ho altri e questo me lo ci faccio le vacanze al mare ecco è così che si incomincia non si parte comprando il Patrick Philippe e se parti comprando il Patrick Philippe perché te lo puoi permettere non diventerai mai una passolata di orologi diventi solo uno che c'è i soldi per comprarsi il Patrick Philippe certo certo e come a me che di macchina non mi interessa niente vinco il superanotto e mi compro il Ferrari però non so neanche che motore monta o la storia io non so assolutamente niente bravo bellissimo esempio sarebbe proprio così giusto per ostentare il proprio e qui c'è un'altra considerazione certi marchi sono per l'ostentazione e a questo punto se hai bisogno di avere un pezzo è perché cioè sicuramente ostentare però Ferrari come Patrick Philippe sono marchi che comunque hanno fatto la storia è certo che se uno lo compra perché è un appassionato mio nonno c'aveva il Patrick c'aveva Blackpain capisci marchi che appassionati perché c'è gente che non sa neanche cos'è un Patrick Philippe guarda è una storia assoluta dell'orloggeria ma è quello che dicevamo prima massimo rispetto perché bevi Sassicaia che se lo può permettere ma se c'è arrivato se c'è la cultura per capire se no sei con tutto il rispetto visto che in questo momento ci siamo anche più o meno in guerra se no sei il magnate russo che ordina l'Aragosta e ci beve dietro Brunello di Montalcino cioè due cose ottime ma che tra di loro fanno cazzotti insomma è una cosa che mi dà leggermente fastidio leggermente perché poi alla fine si c'è capitano delle persone che vengono al banco guardano tre secondi ma tu hai dei Rolex e io apposta gli dico sì ma che modello cerchi di Rolex no no un Rolex ah gli ho detto no non ce li ho al mercato non li porto Rolex cioè che tu hai dei Rolex cosa vuol dire tu cosa stai cercando dalla tua vita un Rolex perché sì esatto c'è anche il nome di un modello di Rolex quindi è il famoso discorso del abbiamo parlato tanto di questo dei dei Panerai con tre bar di profondità e il il tourbillon cioè per la carità bello in assoluto ma Panerai fa un altro mestiere cioè è antistorico come discorso oltretutto il discorso è Panerai in un gruppo dove c'è chi fa i tre bar col tourbillon non hanno bisogno di fare però qual è il discorso? che quello che non ci capisce niente Panerai è un orologio stimato soprattutto in certi mercati Panerai d'oro tre bar col tourbillon ecco sì poi facci il bagno mi raccomando esatto ok no mi fa molto piacere però questo discorso è un discorso che vabbè io conosco bene te conosco bene appunto Dario che è sempre lì all'inviata anche lui tutti e due prima siete degli appassionati poi siete dei commercianti e questo è tanta roba insomma no? perché oltretutto secondo me è una cosa che mi permetto di consigliare a chi va per mercatini se non trovate il commerciante stronzo che c'è ci sono ok però è una persona con cui si può parlare io non penso che se uno viene lì anziché dirti qui ci sono i soldi perché voglio quel pezzo lì come comprare tre pomodori al supermercato ma incomincia a chiederti secondo me tu sei soltanto contento di confrontarti da questo punto di vista non è che gli dici pallino lasciami lavorare giusto? no assolutamente perché no no ma guarda è successo proprio sabato che c'era una persona che aveva bisogno delle indicazioni per quanto per un orologio che gli aveva dato il nono un bell'omega oltretutto ero pieno fino a qua di persone gli ha detto ascolta prendi il volantino ci sentiamo in settimana e ti do tutte le spiegazioni del caso e così abbiamo fatto mi ha contattato poi in settimana lui non voleva venderlo voleva solo spiegato un po' che cosa aveva perché si è trovato questo orologio ma non sa neanche cosa c'era in mano allora io gli ho spiegato un po' io ho spiegato la storia ho spiegato il movimento ho spiegato un po' tutto ed è stato contento certo in quel momento la fermarmi per dedicare il tempo a lui non potevo perché una dei rischi dei mercatini è che gli orologi più che comprarteli te li fanno sparire quindi bisogna sempre è stato un attimo di casino perché siccome tu sei collegato al telefono per fortuna c'è un po' di gente che ti chiama per cui questo crea un po' di casino meglio così meglio così ti volevo fare una domanda un po' scomoda rispondimi se hai voglia se no no nel contesto mercatino ci sono chi lo fa di lavoro con tutto quello che ne consegue ok e ci sono quelli che invece sono degli obbisti in massimo rispetto si pigliano le loro menate anche loro si alzano la mattina anche loro e pigliano freddo anche loro mi piacerebbe così far capire comunque il fatto che c'è della differenza in che cosa consiste fondamentalmente questa differenza immagino anche dal punto di vista dei costi sicuramente nei costi c'è differenza c'è molta differenza nei costi perché tu devi far quadrare devi avere una quadra in quello che fai se tu lo fai come obbista e hai il tuo stipendio se quel sabato quella domenica vendi o non vendi sono problemi sono pochi problemi nel senso ti va bene anche se torni a casa ti sei fatto una sfacchinata ma se come dicevi tu ho incontrato anche un po' di amici al limite ho seminato per la prossima volta certo certo no ma per il fatto di seminare guarda io tante volte ad esempio Pavia è un mercatino che non si vende tanto vendo veramente poco però acquisto mi sono fatto un giro di clientela dove i privati vengono a portarmi gli orologi quindi il lavoro come dicevamo prima il mio lavoro non è fatto solo di vendere orologi ma la cosa più difficile è trovarli è proprio la differenza tra un commerciante e un obbista secondo me è proprio a livello finanziario perché comunque io mi devo portare lo stipendio a casa quindi devo girovangare di più per trovare orologi a prezzi più bassi vendere pagarci le tasse e oltretutto io do una garanzia se tu hai un orologio che non ti funziona io è come se se compri da me è come se compri da un negozio poi ci sono tantissimi obbisti che sono super onesti se c'è qualcosa che non va io lo porti non voglio dire non voglio dire diversamente però io spero di che quando una persona viene sul mio banco di trasmettere un minimo di fiducia in più proprio come dicevi anche te che è allestito cioè io lo sento un negozio forse perché è quello la mia ispirazione finale allora ti dico dall'altra parte da colui il quale al mercatino compra qualcosa secondo me la vera grande differenza è questa cioè quando si ha a che fare con qualcuno che lo fa di mestiere qualunque problematica puoi andare là e detto male tirarlo per la giacca e soprattutto in un ambito come un prodotto come il prodotto vintage per cui usato se non c'è una cosa di questo tipo sei nelle mani della correttezza e dell'onestà di chi ha il banco noi ne conosciamo ne conosciamo qualcuno uno in particolare l'abbiamo anche già citato che è assolutamente irreprensibile da questo punto di vista e so che tra l'altro voglio dire se non ricordo male avete con evidentemente mi riferisco a Dario all'imbiate avete anche fatto addirittura dei banchi insieme se non ricordo male qualche volta questo per dire qual è il tipo di rapporto però concettualmente soprattutto nei mercatini diciamo fuori casa perché uno va in un mercatino vicino a casa dove c'è quello che ha il banco tutti i mesi o tutte le settimane addirittura può andare di nuovo a dirgli qualcosa ma magari sei in trasferta ti compri un orologio un orologio c'è i suoi problemi te li tieni e sì oltretutto e tu dovresti saperlo se non mi sbaglio se mi ricordo bene vieni da me con la carta di credito e paghi ecco questa è un'altra cosa non mi ricordo però mi sembra che tu ne sai qualcosa sì sì è verissimo è verissimo è verissimo è verissimo quindi un aiuto che do cioè un commerciante può dare e poi ad esempio sono piccole sono piccolezze ad esempio io guarda mi deve proprio scappare ma è molto difficile che io vendo un orologio vintage ad esempio con un cinturino usato io ogni volta che compro un orologio lo faccio pulire lo faccio controllare e il cinturino lo cambio io metto un cinturino nuovo proprio perché a me stesso dà fastidio vedere l'orologio con questi cinturini qua consumati che sì saranno anche dell'epoca ma cinturini però quando lo porti ti metti giù di morale certo sono d'accordo invece ho visto tanti banchi nei mercatini perché diciamo io ne frequento mercatini adesso un po' meno però ho fatto anni e anni andare in giro per mercatini come acquirente bell'orologio e poi vedi questo cinturino che a momenti si disfa sì è vero che non cambia il valore dell'orologio però è una una cosa in più che a me ad esempio piace far vedere piace dare infatti ho visto che poi mi continuano a dire è bello il cinturino bello il cinturino dove lo compri dove lo compri alla fine mi sono sono messo anche a dare anche i cinturini proprio perché tanti clienti mi chiedevano dove acquistavo questi cinturini alla fine ho deciso di metterle a disposizione anche ai clienti ogni tanto ogni tanto anche dei cinturini hai delle delle mega occasioni io mi ricordo un paio di volte ho preso proprio una scatola di cinturini a dei prezzi assolutamente clamorosi perché poi ce l'ho anch'io quella questione lì quando li trovo magari in qualche mercatino col cinturino sbrindellato e poi me lo cambio esatto ecco e bracciali invece in acciaio io li smonto e li lavo assolutamente appunto poi può capitare perché sono tanti e uno però è difficile che ti metti un mio orologio su di esce fuori il nero dal bracciale di quello che l'ha comprato 50 anni fa sono piccole accortezze che secondo me ci devono essere soprattutto se sei un commerciante comunque un professionista del settore e qui c'è una grande differenza anche rispetto all'altro discorso che faceva all'inizio ovvero le vendite su internet ahimè le vendite su internet anche di siti che fanno questo in maniera professionale corrono il rischio di andare contro delle brutte sorprese anche perché determinati siti praticamente tutti non è che vendono qualcosa loro o qualcosa che passa da loro ma fanno da intermediari per cui per quanto loro possano essere in buona fede se chi ti vende l'orologio dall'altra parte d'Italia o dall'altra parte d'Europa è diciamo non tanto corretto e poi va incontro a dei potenzialmente a delle rotture di scatole poi anche qui ci sono dei siti più o meno seri e alcuni un pochettino più da combattimento ma non per i siti per le persone che in qualche modo ci possono lavorare su questi siti e poter dire anche in un sito di questo tipo signori guardate che io ho un negozio con una partita IVA è garanzia sì sì io lavoro con Ebay che mi trovo benissimo a parte le commissioni che anche lì non sono così basse però mi trovo bene io ho venduto in Malesi ho venduto a Bora Bora addirittura cioè però sai che per chi compra Ebay tanto per non far nomi garanzia nei confronti dell'acquirente e poi andarla a prendere è molto molto difficile nel senso che Ebay fondamentalmente ti fa un discorso ascolta l'hai comprato mettiti d'accordo tu mandaglielo tu indietro altri siti magari hanno delle politiche sulla carta più valide poi magari alla verifica un po' meno oggettive tra l'altro alcuni di questi adesso hanno avuto secondo me la pessima idea di far fare le valutazioni dei loro esperti hai capito sai hai già capito a che sito mi riferisco a questo orologio vale 1000 euro non ho un momento vale 1000 euro ma tu non l'hai mica visto vale 1000 euro secondo una media statistica di quel modello lì se poi quello che mi mancano è perfettamente funzionante poi però perde tre ore ogni quattro oppure la molla di carica slit eccetera tu non l'hai visto e dirmi che vale 1000 euro mi stai anche un po' pignando per il fondo schiena insomma secondo me è vero è vero è vero ma quella quella aspetta l'avevo già ci avevo già pensato un po' di tempo fa avevo detto ma come fanno a valutare queste persone gli orologi guardandoli da una foto ok tu da una foto puoi puoi stimare un valore ma sì sarebbe di scrivere un valore su un sito dove io sto comprando perché io che compro per la prima volta mi fido di te se tu dici che vale 1000 euro io se lo compro 800 faccio l'affare per me poi dopo mi arriva ed è mezzo ed è da revisionare 500 euro di riparazioni non ho fatto questo affare infatti sarebbe più corretto più onesto dire allora il modello pinco-pallo della della pallo-pinco mediamente è valutato tra gli 800 e i 1200 ecco questa è un'idea che mi può anche piacere perché non posso magari conoscere tutti gli orologi dire la sua valutazione mi sembra un po' un po' eccessiva insomma sì no perché se non lo vedi dal vivo ecco ad esempio ad esempio un avevo parlato di di cose negative per quanto riguarda l'attività ad esempio invece una una cosa positiva è che le persone si fidano tante persone non tutte ma alcune si fidano e quando hanno da vendermi ad esempio degli orologi io purtroppo lo cioè deve essere come dico io sennò piuttosto non non metto bocca l'orologio me lo mandi io lo controllo se è com'è da foto prendo e ti faccio bonifico e si fidano le persone si fidano perché comunque vedono che c'è una struttura dietro che non è chissà che struttura non è che chissà cosa sono però comunque però sei registrato in camera di commercio c'è la partita IVA e potenzialmente sei un soggetto a cui domani posso mandare una PEC per dirlo guarda che mi hai ciulato cioè si quello si infatti ci sono tante persone che io non lo faccio perché una persona me l'ha detto ma io mi devo fidare di te però te non ti fidi di me e io ho detto ma io a te dove ti vengo a prendere tu io sono dappertutto più mi conoscono e più sono contento quindi sicuramente non mi vado a sprecare a rubarsi un orologio da 300 euro ma se tu mi rubi 300 euro io dove vengo a prenderti che non so neanche come a momenti come ti chiami quindi assolutamente assolutamente allora io direi una cosa visto che parliamo degli orologi te lo dico da da appassionato ma quali sono le ultime novità che hai che andranno sul banco sabato all'imbiate tanto per dire c'hai qualcosa da farci vedere sì stamattina ho scambiato un orologino che avevo da un po' e in cambio mi è stato dato questo qua vediamo se ti faccio vedere questo è un quarto però eh è un quarto esercito marina cos'è marina allora esercito marina militare sì marina militare esatto carinissimo sì sì crono non so se si vede eh sì è un po' fuori fuoco ma abbiamo capito perfetto sì 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 purtroppo con la telecamera poi ci sarà mi è arrivato questo beta le mani a 5100 carino un po' più indietro argento tirano un po' più indietro un po' più verso di te ok bello movimento le mani le mani a 5100 c'ha i contatori tipo in madreperla carino molto bello è bello molto bello col suo cinturino originale in questo caso bello molto bello sì ecco questi sono i classici orologi che magari chi ne capisce un po' meno tende a sdombare e invece in più delle volte sono i veri affari bravo anche perché quando ha un movimento un movimento conosciuto affidabile bello eccetera insomma le cose passano in secondo piano anche perché parliamo che ci capiamo la garanzia della casa è qualche anno che non ce l'hai più questo è vai più indietro Tagoyer Lorenz questo è come ti dicevo prima è un Lorenz ed è un fondo di magazzino ha dentro le belle va giù 77,50 ecco altro bel esempio altro bel esempio di signor movimento che nobilita anche una marca che magari non è così clamorosamente valutata è molto carino però perché ha fatto la storia Lorenz con l'acqua star cioè comunque Lorenz per chi conosce il marchio è quello che dicevamo prima però tanti Lorenz anche perché poi tanti sbagliano e questo è il discorso di bisogna studiarlo alla storia se sei appassionato vanno a valutare le case su quello che sono adesso ma le case non è detto che 30 anni fa 40 anni fa 50 anni fa fossero la stessa cosa di adesso anche perché con la crisi del quarzo tantissime addirittura hanno chiuso e quando hanno riaperto magari con qualcuno che ha ricomprato il marchio sono diventate una cosa completamente diversa magari adesso producono in Estremo Oriente con tutto rispetto per l'Estremo Oriente ok signori in Estremo Oriente si fa il 60% il 70% dei pezzi che vanno dentro anche gli orologi più blasonati parliamoci chiaro e chi fa finta di non saperlo ci piglia in giro detto ciò però magari non erano così anni fa oppure il contrario ci sono tanti che visto che la casa ai tempi era tanto importante sono convinti che è rimasta tanto importante e invece purtroppo nel frattempo fanno purtroppo magari delle discrete porcherie e si vedono dei prezzi nel nuovo con dei movimenti assolutamente poveri a migliaia di euro con movimenti che puoi trovare sugli orologi ad esempio degli orologi che montano il 77,50 come questo Lorenz e magari costano 4-5 mila euro esatto i materiali sicuramente saranno diversi della casa però snobbare un orologio da 4-500 euro perché si chiama Lorenz e ha lo stesso movimento di un EVC aqua timer che ne costa 3.500 non ci hai capito non ci hai capito vuol dire certo bisogna un attimino studiare un po' di più ma è questo il bello se uno è un appassionato se uno è un collezionista il grosso è quello a questo punto voglio dire dico una cosa che non va tanto bene per la tua attività ma comprati un orologio in meno e comprati due libri in più hai capito perché dopo quando avrai comprato due libri in più uno avrai trovato la tua via perché anche qui uno non è che può comprare tutti gli orologi del mondo va bene se l'orologio lo paghi 100 euro se lo paghi 50 euro come questa schifezzuola qui che si chiama Benyar è cinese adesso mi insulteranno tutti eccetera eccetera bene ok costa 50 euro dici oh che bello me lo metto faccio il cretino mi sono divertito finché va va e poi glielo diamo anzi poi mi diverto ancora di più perché lo apro e provo con la scusa di dire adesso lo riparo lo rompo ancora di più però intanto ci sono passato ci ho passato le mie giornate ok e questo è un discorso ma se no al di là di così questo è acquisto emozionale puro è peggio che comprare lo swatch e trovi la tua strada a questo punto io ho degli amici che fanno collezione di orologi con un particolare movimento con orologi con il value piuttosto che con che ne so con 7750 eccetera è già quella una collezione io ho un cliente che in questi giorni farò vedere questo beta perché lui mi ha sempre comprato solo le mani a 5100 appunto faccio collezione di orologi le mani a 5100 benissimo poi come capita ogni tanto ogni tanto nei mercatini nei banchi si trovano degli orologi che al di là del marchio al di là dell'orologio in quanto tale ci hanno poi anche delle storie personali delle storie private io ho trovato degli orologi fantastici con su magari una data con su magari una dedica con magari addirittura una volta ho trovato un tasca e per divertimento sono riuscito di fatto a risalire a chi è stato proprietario di questo tasca nel 1915 ecco io con un orologio da 100 euro mi sono divertito e appassionato per un mese e mezzo e ho tratto una soddisfazione che non ha pari in orologi da migliaia di euro non immagini proprio perché io infatti sul mio canale youtube vorrei iniziare a parlare anche di questo di quando quando mi capita l'orologio giusto non immagini quante volte mi capita di entrare a casa delle persone mi fanno vedere gli orologi e per un orologio io sto dentro con la casa magari un'ora perché mi spiega da quando è stato comprato fino a quando fino al mese prima che l'ha avuto in mano quindi delle storie infatti vorrei iniziare a parlarne perché a me tante volte mi emozionano perché comunque di queste persone qua che hanno magari anche una certa età quindi la tua età no scherzo un po' più anche un po' più grandi 2-3 anni in più più grandi che ti spiegano il perché hanno quell'orologio gliel'ha regalata la moglie prima di sposarsi mi serviva perché io dovevo cronomettare le fermate dell'autobus e ti spiegano tutta la loro vita e che cosa è stato per loro quell'orologio perché poi alla fine è quello l'orologio secondo me racchiude tante emozioni dentro e quindi questa è la cosa che personalmente mi ha fatto più innamorare di tutti assolutamente secondo me gli orologi sono i veri e qui parte la pubblicità testimoni del tempo perché testimoniano il tempo che tu vivi a me è capitato di trovare un orologio in un mercatino non ricordo neanche più la marca francamente un orologio vintage solo tempo eccetera eccetera con su una data che era la data della più grossa ritirata della campagna di russia ok e sicuramente in quel caso era una data perché magari c'era stata una laurea ci sarà stata una non lo so una cresima un matrimonio ok ma quella è la data tanto per dire che per la carità potevo punzare punzionarci anch'io un orologio ma non sarebbe stata una cosa uguale la data in cui nella grande ritirata di russia adesso il nome del paese della città in cui è avvenuta non me lo ricordo ma è di fatto il giorno in cui mio nonno che era in russia è stato disperso per cui praticamente è il giorno in cui di fatto è morto è morto mio nonno nella campagna di russia trovare un orologio di questo tipo al di là di tre dita di pelle d'oca sul coppino ha significato tutta una cosa ecco perché non riesco ad accettare quelli che ti dicono il tuo orologio fa schifo a prescindere perché non sai che storia c'è dietro e questa è la cosa più bella è la cosa più bella che noi possiamo che noi possiamo avere mamma mia siamo appassionati ascolta io non posso far nient'altro che ringraziarti proprio perché anche questa chiacchierata con te è un altro esempio di una storia la tua storia che è molto interessante e tra l'altro abbiamo secondo me anche svelato un po' di domande risposte a un po' di domande che la gente si pone perché insomma il commerciante di là dal banchetto è sempre l'alter ego ma insomma capiamoci anche perché poi ragazzi ci piacciono gli orologi ci piacciono a tutti e andarci a bere un prosecco o un caffè magari in piedi quando fa freddo magari che nel termos è una cosa che fa sempre piacere io ricordo che abbiamo mangiato una fetta di torta al tuo compleanno e bevuto il prosecco in piedi davanti al tuo banchetto l'inviate che bello che bello che bello anche il 24 non c'erita il 24 no però poi sono venuto a prendere il panettone quindi ho portato un spumantino giusto per no a me piace sicuramente ascolta davide grazie ancora ripetiamo l'inviate tutti i sabati il mercoledì a Pavia dov'è che si tiene la Pavia in centro in centro città via 20 settembre sì zona pedonale praticamente zona pedonale sì in via 20 settembre e prossimamente nei mercatini limitrofi dico bene? se riesco mi farà molto piacere poi c'è il mio sito www.revintage.com per chi mi vuole seguire c'è il YouTube di YouTube Benissimo perfetto oh Davide grazie ancora alla prossima ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti